Canta Vittoria il Codacons, l'associazione dei consumatori che dopo aver visto accolto il ricorso anche per la riapertura delle scuole destinate ai bimbi più piccoli ha avuto ragione anche sulla ripresa in presenza in campagna per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Dal primo febbraio dunque anche gli alunni degli istituti superiori tornano in presenza ma con il necessario adeguamento dei mezzi di trasporto. Il Tribunale amministrativo non si è infatti limitato a sospendere ma ha anche dettato le misure e le linee guida alle quali la regione campagna dovrà attenersi come ha sottolineato l'associazione dei consumatori compresa l'attuazione dei piani di trasporto che sono già stati predisposti. Siamo veramente contenti sia io che l'avvocato Clarizia ma tutto il Codacons sia il Codacons regionale che il Codacons nazionale. Allora io ci terrei a specificare una cosa che è molto importante. Questo non è un ricorso contro o a favore dei comitati si dad o no dad. No, questo è un ricorso per il rientro a scuola ma nel rispetto delle leggi. Cioè la sospensiva che è intervenuta oggi con il decreto è praticamente una sospensiva che riguarda l'ordinanza del Presidente regionale perché l'ordinanza del Presidente regionale è illegittima rispetto ai decreti legge e di PCM che si basano su dati scientifici ma soprattutto sulla Costituzione perché la scuola è un servizio essenziale e quindi è di competenza dello Stato. La regione può intervenire solo nelle more, nelle more tra un decreto e un altro per situazioni di emergenza. Ora è importante sottolineare anche quest'altro aspetto che il Codacons è intervenuto sì come associazione ma è intervenuto anche per conto di una rappresentanza di genitori che a loro volta sono stati presenti nell'attuale ricorso per decine e decine di genitori della provincia di Salerno e di Napoli. Quindi è disonesto intellettualmente dire che questo ricorso l'hanno fatto due o tre genitori perché non è così. E la prova che i ragazzi hanno protestato per rientrare a scuola oggi davanti alla provincia è significativa. Cioè si vuole tornare a scuola ma nel rispetto sempre alle le leggi e delle regole. La regione può fare qualcosa ora da un punto di vista legale per bloccare questa scelta? La regione potrebbe solo impugnare al Consiglio di Stato ma non credo lo faccia. La cosa però importante è dire che il TAR ha anche dettato le linee guida a cui la regione si deve attenere perché come noi abbiamo depositato ieri i piani dei trasporti della prefettura della città metropolitana di Napoli e della prefettura di Salerno che erano già pronti dal 5 gennaio e che non sono stati mai annunciati dalla regione Campania.